Prima di tutto voglio ringraziare la società, il mister e la squadra per la fiducia. Prima di voi il professionista, sono molto contento prima per la vittoria e poi per aiutare la squadra. È una partita che abbiamo preparato tutta la settimana e è quello che ci ha chiesto il mister di fare. Penso che abbiamo lavorato bene da squadra, da gruppo e vogliamo continuare a seguire quello che ci dice il mister. Penso che faremo altri belli risultati. Noi sapevamo che è una squadra forte e sapevamo la loro forza e i difetti. E quindi l'abbiamo preparato bene. Penso che abbiamo fatto come ci ha chiesto di fare il mister. Così di attaccare sempre la profondità, di allungare la squadra, di fare la squadra quando serve e quando non serve di attaccare più la profondità. Il mister mi ha sempre dato la fiducia, i compagni, la società. La fiducia non ci è mai mancato. Io cerco sempre di lavorare per la squadra. Il gol è arrivato, sono contento per i gol e più per la vittoria perché questa squadra merita. Per come lavoriamo settimana dopo settimana, i sacrifici che facciamo, penso che è più il merito della squadra.